che frutto meraviglioso è la noce contiene fosforo calcio zinco tanti grassi i cosiddetti buoni insomma un vero tocca sana per la nostra salute e oggi in mano ho una noce di tipo lara una varietà molto apprezzata per il suo gusto dolce e delicato e tra l'altro questa è una noce completamente naturale questo vuol dire che nel frutto nella pianta sono stati trattati con agenti chimici come certificato da friend of the earth organizzazione non governativa che sostiene la coltivazione e l'allevamento sostenibile di cui paolo brai buongiorno paolo che ha piacere di ritrovare è il presidente quindi insomma paolo questa azienda la potremmo definire senza dubbio virtuosa sicuramente qui a monsole di cona ci troviamo a che fare con un'azienda virtuosa dal punto di vista del rispetto dell'ambiente e dei lavoratori immaginati che l'azienda ha piantato oltre 400.000 piante ormai più di un quarto del suo territorio è coperto da noceti quindi con un beneficio per la salubrità dell'aria la riduzione della crisi carbonica ma anche per la biodiversità in questo momento non è proprio periodo di noci no la raccolta viene effettuata a settembre ottobre in questo periodo viene fatta una lavorazione dei prati in modo da mantenerli puliti e pronti perfettamente per il periodo della raccolta ma importante sottolineare che questa azienda pratica l'agricoltura integrata e quindi in particolare per il noceto non utilizza insetticidi utilizza solo delle tecniche di lotta biologica agli insetti eventualmente presenti e che potrebbero danneggiare le piante e tra l'altro questa noce come potete notare non è stata sottoposta ad alcun tipo di sbiancamento è così naturale esatto purtroppo in alcune parti del mondo le noci vengono sbiancate con cloro soda e invece questa azienda utilizza solo acqua potabile ovviamente con un ritorno positivo per l'ambiente e anche per la salute del consumatore e naturalmente per riconoscere i prodotti certificati bisogna cercare il bollino friend of the earth sì è molto importante che il consumatore si abitui a cercare questa certificazione perché così selezionerà dei prodotti che sono stati all'origine controllati per le pratiche di agricoltura sostenibile ma si sentirà un po' friend of the earth cioè amico della terra e come mi piace sempre dire al termine dei nostri incontri questi prodotti sono due volte buoni buoni per il palato perché rispettano l'ambiente in cui viviamo grazie grazie Paolo a prestissimo e con voi ci vediamo alla prossima avventura